Annabella, cosa hai fatto con questi secchi? Ho messo le cose in chiaro. In che senso? Nel senso che la plastica, nella plastica, nel contenitore della plastica, ci vanno solamente i contenitori di plastica puliti, non i bicchieri del caffè sporchi che dopo io ci devo mettere le mani, eh. Se hai i dubbi, mettilo nell'indifferenziato. Facile, no? Lo sai che abbiamo il primato a Milano per la raccolta dei rifiuti differenziati? Certo, anch'io lo voglio il primato. Congratulazioni Milano!